www.marizopoli.it Novità, la PEC che siamo abituati a utilizzare per la posta elettronica certificata verrà sostituita entro il fine anno dalla REM, dal Registro Elettronico Mail che ha tutte le carte in regola per migliorare alcune PEC della posta certificata che conosciamo oggi. Un esempio, un professionista che invia un documento importante a un cliente in possesso di REM avrà la garanzia che il documento arrivi senza il rischio di intrusioni quindi la differenza sostanziale è che la PEC garantisce sia la ricezione che l'invio non verifica però l'identità del destinatario e del mittente in quanto il servizio non obbliga a confermare l'identità. Con la REM invece, questa sicurezza inoltre, ha anche una maggiore garanzia per quanto riguarda la possibilità di attacchi informatici. Tutto questo entro la fine del 2024. Qui l'articolo. Alla prossima!